I distributori di carburante sotto il controllo della Guardia di Finanza. Sono state 800 le ispezioni scattate in tutta Italia in un'operazione estiva a tutela dei consumatori. Il 28% degli impianti, ovvero 230 distributori, sono risultati irregolari. Le fiamme gialle hanno denunciato in tutto 33 persone, sequestrato 93 colonnine, 449 pistole erogatrici e oltre 780 mila litri di prodotti petroliferi. Inoltre sono state riscontrate un centinaio di violazione alla disciplina sui prezzi.